buongiorno ragazzi buongiorno e bentornati sul mio canale youtube tuffomix alias in questo gioco in questo tie brick e petronio teans stanno avanti nel ciclo e nel doppio abbiamo vinto appena poco tempo fa nel doppio il terzo turno siamo passati al terzo turno di coppia il nostro amico alex siamo approdati e quattro di finale ed ora ragazzi si ritorna al singolo siamo contro cia ma petronio teans contro cia ma ragazzi eccolo qua e gli ares cia ma non so di cosa dove salti fuori mettiamoci la magliettina blé azzurra tipo italia e poi ragazzi devo farci questo incontro sperando ragazzi nel singolo sono bravissimo e vediamo di dare il massimo in questo intanto grazie tutti quanti per essere presenti grazie per i vostri like i vostri contributi in like in iscrizione in commenti mi raccomando commentate in descrizione qui sotto trovate il link alla playlist avete perso qualche episodio mi raccomando se volete vederlo cliccate lo guardate in iscrizione anche il link al canale telegram e anche il gruppo dove si può scrivere a dare leggere quello che volete al centro di servizio e non rispondiamo ragazzi il singolo per noi è sempre un po più particolare vediamo di giocarcela bene perché non è facile e infatti ci da prendere quindi si deve appena conversare ragazzi per noi il singolo edificio il petronio nel doppio nel singolo rende poco rende poco nel singolo non rende come nel doppio non lo so perché non so come sia il problema il problema è che vado da una parte all'altra e mi perdo mi perdo ragazzi mi perdo non riesco a fare i singoli faccio una fatica bestia siamo siamo i quarti non siamo già dei si e quarti quindi probabilmente trovo giocatori che sono forti rispetto a me non lo so ragazzi questo è andata bene ragazzi abbiamo messo un bel diagonale di rovescio però non è sempre rose e fiori bello cazzo petronio come l'ha incrociata questa 40 30 grande petro grande petronio ma va bene stiamo ancora qua perché non è finita è ero per me una bella per l'auto avversario 1 0 e devo imparare a correre non riesco a correre da una parte all'altra faccio la fatica bestia è fuori cazzo ma dai ma che cazzo è petronio come cazzo batti sangue merda ma dai petronio non mi fa queste cazzate quindi ci pari quindi ci pari devi correre di più petronio devi correre devi correre petronio devi correre merda petronio non corre non corre petronio non grande grande petronio grandissimo grandissimo 30 pari 30 pari 30 pari e la storia dura petronio e 2 e 2 quindi vedete come dirà smorzata lì bellissima è imprendibile per l'avversario però due ragazzi petronio nel singolo non è non è forte come nel doppio ma cosa fai ma come cazzo fai sbagliare così petronio una volta non li sbagliavo mai questi tini qua mi ha cavato l'intervizio con gli ultimi aggiornamenti probabilmente qualcosa è cambiato con gli aggiornamenti perché io non li sbagliavo i servizi ragazzi li facevo bene tutti è possibile che sbaglio tutti tutti i servizi ma tutti i servizi sbaglio ma cos'è? ma dai ma porca troia non li sbagliavo mai i servizi prima li facevo tutti li facevo case facevo eh niente ormai petronio è moralizzato ragazzi ed è moralizzato ragazzi il petronio è moralizzato io prima li facevo tutti questi adesso non li faccio più non 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 no ragazzi non lo so impegniamoci un po ma faccio fatichissima ma non si è mosso petrolio perché petrolio perché oggi si è mosso di un millimetro brutto stronzo c'è ragazzi ma se non corri petrolio 3 a 0 ragazzi petrolio non corre io non so cosa darti a farci con petrolio e non vuole correre ma lo sbaglio sempre porca troia dai ragazzi non si può sbagliare questo ma dai petronio ma come cazzo stai battendo cazzo le battevi bene una volta è possibile che adesso non riesci più batterle ma guarda a petronio ma come cazzo le stai battendo ragazzi batto come al solito ma non va di là cioè ragazzi non riesci più a battere non riesci più a battere raga brava ci butta fuori di brutto questo eh ci butta fuori di brutto va bene cioè non passa più ragazzi ma come cazzo fa non passare ma dai ma vado sempre 4 0 non riesci più a battere raga 4 0 bruttissimo questo inizio è bruttissimo bruttissimo devo fare solo i doppi ragazzi eh mi ha pregato mi sono messo verso 3 per sinistra devo fare sicuramente i doppi ragazzi ragazzi non riesco più a muovermi non riesco a tirare sembra di essere qua in su il football sembra che giocare al football ragazzi non riesco a fare niente 1 a 0 1 a 0 cioè ragazzi la battuta non riesco più a fare ma scusate quando devo battere e io batto che sono su quando devo battere non riesco più a battere riproviamo perché non riesco più a battere devo battere prima allora vediamo allora forse che ha fatto qualcosa delle battute vediamo è forse cambiato qualcosa delle battute 2 a 0 2 a 0 non riesco più a battere non riesco più a battere ah cazzo c'è questa bella 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 15 pari ragazzi 15 pari bella 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 bellissima è riuscito a prenderla bella molto bella 15 pari ah quindi potrete fare bella riposta di chakma ma Petronio ormai è quasi indisfatto ormai c'è poco da fare può solo sperare della madonnina ma grande Petronio 30 40 eh un match point per la prima volta in vita sua Petronio c'è un match point della sua eh ma è un caso più unico che raro forse anche molto raro ma anche unico vediamo eh Petronio c'è un match point diventa una cosa incredibile e porta via il servizio Petronio e porta via il servizio ragazzi 2 a 1 trappa il servizio l'avversario non so neanche io come cacchio ho fatto dopo 5 minuti di intenso un bel gioco un bel match 2 a 1 per l'avversario ma Petronio ne ha vinto finalmente uno forse non lo so che è successo e Petronio ha vinto finalmente il suo primo bella battuta buona e anche la contro risposta è stata eccellente di Petronio eh molto bene vediamo se riusciamo a fare oh sembra che Petronio sia un po' svegliato eh da un sonno duraturo eh vediamo 40 a 0 ragazzi il Petronio si è svegliato non so che cazzo è successo eh no no doppio errore Petronio eh cazzo di coglione ho sbagliato io mica hai fatto punto a te bravo Petronio bravo Petronio bravo Petronio chiude due pari Petronio due pari due pari Petronio l'ha chiuso su due pari grande Petronio grande Petronio due pari grandissimo Petronio vediamo adesso di cercare di oh ragazzi Petronio sembra quasi rinsavito eh non so forse solo un lampo a cercirelo vediamo vediamo 0 15 grande Petronio grande Petronio 0 30 merda ragazzi ma che è successo ha messo la sviluppina ha mangiato del il bondi motta che cazzo è successo a Petronio 0 30 dai vai tranquillo Petro vai tranquillo è bravo 15 30 bel punto dell'avversario 15 30 è bravo è venuta bene questa è mi sto mostrando la parte sbagliata 30 pari porca cazza miseria Petro è è è fatto un esce ha fatto un esce ci sta ci si sta 30 40 dai dai Petronio dai Petronio che sei rinatto dalle ceneri c'è risorto dal terzo giorno Petronio è rinato dalle ceneri cazzo 3 a 2 Petronio 3 a 2 è rinato dalle ceneri Petronio ragazzi Petronio è rinato dalle ceneri non so che sia successo si è svegliato clamorosamente dal turbido sonno e lui è Petronio ragazzi Petronio 3 a 2 porta Petronio ragazzi pionde 15 o l'avversario è tanto o Petronio si è svegliato ragazzi abbiamo due possibilità mica tante ragazzi non so neanche io che ci è successo a Petronio non so sinceramente a Petronio che c'è successo ragazzi te lo dico chiaro e tondo non lo so nemmeno io eh che voto tremenda 0 40 a 0 ragazzi Petronio tra 3 match poi 3 match 3 set point ragazzi 3 set point per Petronio ragazzi ok con calma bisogno con calma eh e vince 4 a 2 ragazzi Petronio la porta a casa in secondo 7 ragazzi 4 0 2 4 Petronio dove in 11 minuti riesce a ribaltare la situazione da 2 a 0 da 0 2 a 4 2 ragazzi Petronio sembra non lo so ne chiorate che è successo a Petronio adesso ci va per il terzo e ultimo set decisivo eh attenzione attenzione ragazzi ah la mancata va bene quindi ci vediamo con l'avversario 15 0 ragazzi ci sta eh ha fatto un bel ha giocato bene all'avversario quindi c'è no cazzo siamo sicuri non è convinto Petronio però la palla purtroppo ce la fanno rivedere c'è da fuori no non ce la fanno rivedere ma sicuramente era fuori peccato peccato perché è ottimo 30 15 30 15 dai 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 Petronio il pubblico è con te il pubblico è tutto con te porta Petronio il pubblico è con te dai dai 30 pari 30 pari dai Petronio dai Petronio il pubblico è con te 30 pari 30 pari vai ok 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 grande grande Petronio che scambio incredibile uno scambio incredibile ragazzi 30-40 e ci gioca il primo controbreaker dai dai contro servizio dai forza Petronio forca Troia dai vai una sderna trappato il servizio trappato il servizio siamo su 1-0 Petronio Petronio ragazzi sempre abbinato non so che sia successo si è svegliato dal terpore è resuscitato il terzo giorno è resuscitato vai vai pulca bravo bravo mi ha sbagliato 15-0 15-0 porta forte coraggio forte coraggio forte coraggio bella mi ha fregato 15 pari bravo bravo Chacma bravo Chacma va bene 15 pari dai 30-15 lo sta facendo correre di quelli da come un patto lo sta stancando fisicamente in una maniera incredibile non so Petronio cosa ha mangiato a Natale è Natale scusate ragazzi non so Petronio che cazzo ha mangiato vai 40-15 40-15 porta Petronio porta Petronio vai bella 40-30 40-30 eh vabbè 40-30 va bene 40-30 va bene grande grande Petronio 2-0 2-0 2-0 ha tirato uno Slice e l'avversario ovviamente ha risposto malaccio perché non te lo aspettava e siamo su 2-0 ragazzi il Petronio 2-0 in questo terzo e definitivo 7 forse coraggio dai bello vai da un'altra parte così grande grande 0-15 ottimo diagonale porca puttana Petronio si è svegliato dal torpore delle ceneri 2-0 e risal e mi ha fregato 15 pari ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta stiamo calmi stiamo calmi sangue fresco un'altra parte per sistema si este non ho capito se c'era o no questo, non ha chiamato l'arbitro niente, non ha chiamato niente l'arbitro, vediamo cosa ha detto, vediamo, sembra, vediamo, non è chiaro, non vedo, non ho visto dove ha battuto, vediamo l'arbitro cosa ha detto, non ho sentito il no, però gli ho dato a lui, è 30-15. 30 pari, 30 pari, dai, 30 pari, 30 pari Petronio, 30 pari, forte coraggio, sangue fresco. Ah, è sbagliato, ha sbagliato, ha sbagliato, 30-40 ragazzi, 30-40, l'ha sbagliato a lui, l'ha sbagliato a lui. Vai, 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 ed è gioco, 3-0 Petronio, 3-0 Petronio che adesso ci va a rinfresciare, io bevo perché devo bere ragazzi. Grande rimonte di Petronio ragazzi, e dopo aver perso per 4-0 il primo, il primo set, adesso sta rimontando come se non ti fossero domani ragazzi. Allora, forte coraggio. Valla a prendere, valla a prendere, valla a prendere, questa la prende, qui si è vero ragazzi, vai Petronio, vai Petronio, sta migliorando decisamente in questo ultimo. Vediamo di fare ancora uno slice. No, è fuori, è fuori, è fuori, l'ho sbagliato io, l'ho messo fuori, l'ho messo fuori ragazzi. 30 a 15 ragazzi, si avvicina la fine di questo incontro, durato lunghissimo, su 3-7 ragazzi, si avvicina la fine dell'incontro, mancano pochi punti per Petronio, per dire ciao ciao al suo avversario. 40 a 15 ragazzi, 2 match point, 2 set point, 2, no, 2 match, 2 match point ragazzi, 40 a 15, 2 match point ragazzi. Vai, e Petronio vince, vince ragazzi, dopo aver preso il primo set, 4-0 in una maniera impiedibile, si è svegliato, è risolto dalle ceneri ragazzi, 0-4, 4-2, 4-0. Allora, ragazzi, non so Petronio come cazzo sia possibile questo sprua, ma io vi ringrazio tutti quanti, anche voi per il sostegno, perché non avrei mai pensato di riuscire ad andare a vincere, dopo aver fatto addirittura 9 doppi falli, ho toppato il primo set in maniera incredibile ragazzi. E poi ho recuperato, è 38 punti contro 36, copi vincenti 25 a 17 ragazzi, errori non sono stati 3-5-11, ragazzi, 4-0, 2-4-0-4, Petronio ragazzi, riesce a passare questo turno. Vi ringrazio tutti per questo, per il vostro apporto, ragazzi, se volete lasciare un bel like, un pollicione, aiuta, sicuramente fa piacere, fa piacere il vostro aiuto. E adesso ragazzi, iscrivetevi, c'è l'intervista, 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 l'intervista. Vediamo. Questa è la tua cinquantesima vittoria in un incontro come la vivi, con tentazioni di chi aspetta di livello a 51, perché perdi tempo a fare i conti e chi do. 50 vittorie non sono affatto male, ma è solo l'inizio. Con la concentrazione di chi aspetta di arrivare a quale 51 la prossima volta, grande Petronio. Altra domanda, vediamo questa volta chi lo chiede. Hai trovato un po' di tempo per andare a fare shopping da quando sei qui? Al momento la mia attenzione va tutta al tennis, anche se penso che una volta terminato questo torneo potrei concedermi uno o due giorni per divertirmi un po' in città. Ok? Prossima domanda. Chi è il prossimo? La tua fitta agenda ti permette di visitare alcune delle attrazioni locali quando sei trasferta? Anche se ultimamente la mia attenzione è stata tutta all'interno, ho avuto un po' di giorni per visitare. No, in questo tempo non mi piace lasciare la mia camera da bere. Amo questa città, seguite l'interno di stare a vedere, lo vedremo. Anche se ultimamente la mia attenzione è stata tutta rivolta e ricolta, rivolta al tennis, ho avuto un paio di giorni per visitare qualche attrazione e rilassarmi un po'. Grazie a tutti, grazie a tutti, fuori, via, fuori di ball, Petronio saluta, ha passato questo incontro ed è contento di questa cosa, vediamo se ok, vediamo quanti punti mi da un cazzo. Ragazzi, da quando hanno fatto il ragionamento ci dà pochissimi PE, ma pochissimi PE ci sta dando, e molto molto pochi. Andiamo avanti, ok, il prossimo incontro abbiamo ancora un singolo, credo, non lo so, poi lo andremo a vedere. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio, se volete lasciare un'iscrizione, ragazzi, è semplice, attivate la campanellina, mi raccomando in descrizione il link alla playlist. Un formissimo in salute, ragazzi, è contento della vittoria di oggi in rimonta, sull'avversario tosto e difficile, e vi do appuntamento ad un prossimo episodio di Time Break. Vi ricordo di tutti i giorni, appuntamenti due o tre al giorno su questo canale, e a sabato sera, alla live con il football 2025. Ciao a tutti, grazie a Petronio, lunga vita e prosperità. Ciao.